Bella raga, allora, io sono qui oggi, come avete letto dal titolo, per analizzare, più che altro, commentare e guardare la mia reazione, vedere la mia reazione al video del pit. Oggi sono per analizzare questo video di 16 minuti, ovviamente proverò a farlo durare di meno. E voglio dirvi, a me i pit piacciono un sacco, quindi non sono qua per insultarli o per giudicarli, però voglio solo vedere insieme a voi la reazione a questo video che è una cosa incredibile, l'ho già visto, e cercherò di farvi capire cosa è vero e cosa no, ok? Il video inizia subito così, che lui dice che la luce impazzisce, no? Allora, c'è da dire che la luce si muove, no? Non so come mai, ma sta sbarbellando, possiamo dirlo così. E una cosa che so, loro, Paolo, aveva già messo il film sulla televisione, quindi il video era già programmato, ok? Quindi ha acceso la telecamera e quando l'ha accesa, dopo aver messo il film, che ha messo il film per fare il video, ha iniziato a sbarbellare la luce, che è una cosa incredibile. Non che ovviamente è successo, potrebbe essersi successo tutto in un attimo, quindi non puoi capire niente in quel momento. Quindi questa cosa qua mi sembra molto strana, cioè è vero tutto, però dico che è strano, che proprio mette, che è coincidenza, ecco, si può dire così. Andiamo avanti. Lui dice che è un segno del destino. Prossimo. Vedi, c'è qualcosa che non va, raga, non avete idea? C'è qualcosa che non va, sì. Però. No, allora. Film. Qua dici, da questo momento in poi, forse gli effetti del film antromano hanno cominciato ad emergere. Guardate con attenzione, noi guardiamo con attenzione. Anche se l'ho già visto, so già cosa succede, però guardiamo insieme, raga. Già lì il gatto, vedete? Il gatto ha visto subito, ha sentito subito qualcosa. La porta si apre da sola e non c'è nessuno, ovviamente. Come state vedendo, i nostri gatti sembrano, sembra che abbiano avvertito qualcuno, no? Qua vedete che si chiude, perché qualcosa è entrato. I gatti tirano sulla coda, perché è quando sentono qualcosa che non va. La cosa che mi ha insospettito un po' è che loro... Allora, se avessero preso un complice per fare questo, i gatti forse avrebbero anche miagolato, no? Ma se non sentono proprio... Se proprio non vedono la faccia, cose così... Vedete qua, come sembra che qualcuno... Vedete l'ombra, dove c'è la sedia. C'è un'ombra, dove c'è la lampada. Quest'ombra si è spostata, mentre la sedia si sposta. E qua, proprio sembra una persona fisica, che lo faccia. Perché l'ombra la può lasciare una persona fisica. Non la può lasciare una cosa trasparente. Quindi questo è il primo dubbio che mi era venuto. Dove c'è... La sedia è passata un'ombra. Che vuol dire che è qualcosa di strano. Qual gatto cade... Debby guarda subito le scale. Ma questo è strano, eh? Guarda subito le scale. Oppure la televisione, non si capisce. Comunque prima, no? Prima che si svegliavano, c'erano dei rumori sulle scale. Questo mi ha fatto un po' il sospettire. E vediamo. Qua non erano finiti, dicono. Non me lo ricordo. No, vabbè. Ah, sì, sì, le scale. C'erano le scale, ragazzi. Perché prima che lo veda Debby... Eh, l'ombra, scusate, l'impronta. No, no, no. Perché poi mi dici se sono pazzo. No, no. Aspettate, perché magari con gli infrarossi non riuscite a vederlo. Cos'è? Ma non le vedi? Sono impronte. Sono impronte. Oh. Perché ci sono quelle impronte? Hai pestato qualcosa di bagnato. Ma stai scherzando? Ma poi... Comunque... Sono mica le mie ciabatte. Scusa, eh. Acqua. Guarda. Una cosa. Fermo qua un attimo, eh. No. Una cosa. Io, se fossi stato il loro, sarebbe... Se sarebbe successo a me questa cosa, mi entra qualcuno in casa, non avrei preso la telecamera e registrato subito le impronte. E avrei subito stoppato il video, sarebbe subito andato a vedere. Perché è impossibile che un'impronta si materializzi da sola, così. Quindi avrei subito stoppato il video, chi se ne frega. Magari è entrato anche un ladro, eh. Io avrei stoppato il video, avrei subito guardato. Comunque, è molto, molto, molto strano questo episodio. Scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, perché io credo che sia tutto vero, ovviamente. Ma com'è possibile che succeda loro? E se io ho già guardato il film Andrew, già ho guardato, su PC, e non mi è successo niente, sinceramente. Ma perché proprio loro deve capitare? Perché non può capitare anche a me? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, perché è strano che capita loro, ma a me non è capitato niente. Non è successo niente. Se volete altre reaction dei video dei pit, basta lasciare 10 like, dai. Facciamo un sacco di views e ve ne faccio altri. Bella ragazza.